Lazio Roma 3 a 0 per la Lazio Chi si? E allora Non so che dire Non so che dire Non so che dire Disfatta Roma Disfatta Roma Disfatta Roma Secondo me Allora Gol di Moble Di Pietro di Luisa Secondo me Il primo gol di Luisa Alberto Il secondo è la Lazio Cioè Il primo gol di Luisa Alberto E il secondo gol della Lazio E' da Donnello Perché c'è Caicedo in fuori di luogo Che ha sfiorato la palla E stava davanti a Paul Lopez Che gli ha tolto l'abituale Oggi Farò reaction per i voti Alla 0 3 a 0 Per la Lazio Benvenuti a tutti i ragazzi Benvenuti in questo nuovo video di Ma prima Ehm Benissimo con i voti De Lazio Allora Rena 6 e mezzo Luis Felipe Questo Luis Felipe 7 Alcerbi 7 Radu 7 Lazari 8 Milinkovic Savic 6 e mezzo Leiva 7 Luis Alberto 8 Marustic 6 e mezzo Che è i sedo 6 Immobile 7 I superentrati Akpa Apro 6 e mezzo Escalante 6 Oed 6 Patrick 6 E il voto del mister Della Lazio Un 8 E il mister Della Lazio Dio un 9 Allora I voti Della Roma Ehm Paul Lopez 6 Mancini 5 Smalling 4 I bagnet 3 3 i bagnet 3 3 3 3 3 3 Lombico 3 Cardo Carstorp 5 Veretù 4 Villar 5 Spinazzola 4 Pellegrini 4 Mkhitaryan 5 Zeco 4 Fonseca 3 3 Fonseca 3 3 3 Ehm I subenterati Maioral Senza voto Bruno Perez 5 Crispante 5 Perlo 5 5 E niente Libio finisce qui Un saluto da Manfredo Manfredo E niente Sono arrabbiato ancora Per la sconfitta di questa Roma Allora Niente Ciao Ciao Ciao